Mini finanzi e bigusto, seguitemi in cucina e vediamo come renderli senza glutine. La ricetta è dello chef pasticcere Ettore Ciocia di Bavette Gastronomia, io l'ho resa senza glutine e l'ho leggermente modificata per utilizzare i prodotti che già avevo in casa. Si inizia preparando il burro noisette, cioè semplicemente del burro fatto sciogliere in padella e portato ad una colorazione simile a quella della nocciola. Attenzione a non lasciarlo incustodito perché brucia in un attimo. Una volta pronto il burro lo si filtra in maniera tale da togliere le impurità e lo si lascia raffreddare. Poi passiamo alla preparazione dell'impasto. Verso lo zucchero semolato, lo zucchero di canna, la farina di mandorle in una ciotola, aggiungo anche la piccola quantità di farina di riso finissima e il pizzico di sale e mescolo con una frusta. Mi raccomando, come al solito, tutti gli ingredienti devono essere privi di glutine o di contaminazioni. Mescolo con la frusta e poi aggiungo gli albumi a temperatura ambiente. Se avete le uova in frigo le tirate fuori dal frigo qualche ora prima di iniziare. Poi mescolo bene con la frusta in modo tale da rendere questo composto più omogeneo e più fluido. E poi aggiungo la vaniglia, nel mio caso è estratto di vaniglia, anche questo, attenzione, deve essere certificato senza glutine, a meno che non usiate le bacche di vaniglia e quindi i semi della bacca di vaniglia. Infine incorporo il burro noisette che nel frattempo si è raffreddato. Mescolo tutto, mescolo tutto con la frusta. La ricetta, come vedete, è davvero semplicissima, ma il risultato è un dolcetto più da pasticceria che un dolcetto casalingo. Ecco, poi trasferisco il composto in una sacca da pasticceria e l'ho verso negli stampi. Io non avevo gli stampini in silicone e ho utilizzato questi stampini in alluminio antiaderente dal diametro di 4,5 cm. Li ho precedentemente imburrati con del burro fuso e un pennellino. Ho riempito questi stampini, un paio li ho riempiti un po' male perché due questi dolcetti sono rimasti con il foro aperto, quindi non li ho potuti farcire, però non è un problema, li ho assaggiati così al naturale. Poi li ho battuti bene bene sul piano in maniera tale da uniformare il tutto e l'ho messo in frigo per 20 minuti. Trascorso questo tempo li ho infornati a 175 gradi per, nel mio caso, 14 minuti, però dai 12 minuti in poi iniziate a verificare la cottura. Una volta freddi ho fatto scivolare la punta di un coltello affilato tutto intorno al bordo per staccare delicatamente i dolcetti e poi li ho sformati e appoggiati su una griglia. Mi raccomando tutto questo va fatto quando i dolcetti sono freddi. Poi nel frattempo avevo fatto cuocere 300 grammi di zucchero con 300 grammi di acqua, l'avevo portata a bollore, l'ho fatto bollire per 5-6 minuti, poi ho spento e lasciato raffreddare. Con questo zucchero, con questo sciroppo di zucchero ho inzuppato tutti questi dolcetti. Come vedete ho poggiato la griglia su una teglia in maniera tale da raccogliere lo sciroppo in eccesso che, una volta accuratamente filtrato, può essere conservato in frigorifero per un utilizzo successivo. Una volta inzuppati tutti i dolcetti li ho capovolti in maniera tale da togliere l'eccesso di sciroppo all'interno del foro. I dolcetti sono umidi ma non inzuppati e devono essere comunque umidi. Trascorso questo tempo li ho pennellati o con gelatina neutra o potete usare la confettura di albicocche, quella senza frutta, senza pezzetti di frutta. Nel mio caso io avevo dello sciroppo di arance sciroppate che avevo fatto tempo fa e ho utilizzato quello. Li ho pennellati tutti e poi li ho passati alcuni nelle pistacchi tritati finemente e altri li ho passati nello zucchero di canna. Poi il pasticcere utilizza il cocco rapè e ci sta benissimo. Ovviamente potete utilizzare quello se vi piace, se lo avete. Fatto questo io ho utilizzato due creme che avevo in casa e che sono certificate senza glutine. Una è una crema di cioccolato ed è in pratica quella con la granellina di biscotti all'interno ed è buonissima. E poi sempre della stessa azienda, poi sotto vi metto i riferimenti in descrizione, c'è questa salsa maracucia che sarebbe il frutto della passione. E ho riempito quelli al pistacchio con questa salsa maracucia. Sono veramente buonissimi, questi più riposano e più buoni diventano. E anche quando li tenete in frigorifero per uno o due giorni si compattano, però l'umidità dello sciroppo permette di mantenerli davvero benissimo. Bene, se la ricetta vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdere nessun video. Grazie per essere stati con me e alla prossima. Ciao!